Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati, come annunciato in un'intervista Vanity Fair. Tuttavia, la notizia ha suscitato alcune polemiche, riguardo al fatto che l'imprenditrice avrebbe ricevuto denaro per rilasciare l'intervista. In risposta a queste voci infondate, Sonia ha spiegato, attraverso le sue Instagram Stories, di non aver ricevuto alcun pagamento per l'intervista. Nessun euro si è aggiunto, al nostro già ingente patrimonio. Ha quindi sottolineato che le voci relative al suo presunto guadagno, erano completamente false. Nonostante ciò, alcuni hanno criticato il modo in cui Sonia ha parlato del suo patrimonio durante l'intervista, definendolo poco signorile. Infatti, la Bruganelli ha evidenziato più volte di avere un copioso patrimonio, e di potersi permettere jet privati e borse costosissime. Questa non è la prima volta che l'imprenditrice si esprime in modo controverso e grossolano. Anche se ostentare la ricchezza non è reato, sottolinearlo in modo ridondante, può essere considerato poco raffinato. In ogni caso, la separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembra essere definitiva, e i due stanno cercando di gestire la situazione nel miglior modo possibile. Che ne pensate? Anche voi avete trovato fuori luogo la replica di Sonia Bruganelli? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.